Andrea, come si rende fluida la narrazione? Dunque, per capire che cos'è la fluidità, consideriamo il suo contrario. Si è involuti, contorti, pesanti, quando si complica inutilmente la lingua, quando si usano troppi termini specialistici, in una parola quando si manca di leggerezza. Ma che cos'è la leggerezza? Nelle lezioni americane, Calvino individuava sei qualità che dovrebbe avere la scrittura per essere efficace e comunicativa. La leggerezza, appunto, la rapidità, l'esattezza, la visibilità, la molteplicità, la concretezza. Prendete la vita con leggerezza, scriveva Calvino, perché leggerezza non è superficialità, ma è planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Ora, questo in metafora. E poi aggiungeva, la leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione. Non con la vaghezza e l'abbandono al caso. Per esprimere un concetto complesso, si tende spesso a inseppare il discorso di ragionamenti complicati, di parole difficili, che rendono pesante, faticosa la lettura, addirittura oscura. Un difetto in cui spesso incappano i saggi accademici, ma anche i testi scolastici. La fluidità e la chiarezza espositiva di un testo derivano dunque da scelte stilistiche ponderate. Per ottenere un testo chiaro, semplice e leggibile, bisogna anzitutto rileggere quello che abbiamo scritto e tagliare il superfluo, ciò che intralcia la scorrevolezza e lariosità del concetto da esprimere. Si può essere oscuri e pesanti in qualunque disciplina, dalla critica letteraria alla critica d'arte, alla sociologia. Scrivere in modo fluido significa, nella sostanza, rimuovere quegli ostacoli che bloccano il lettore e lo costringono a tornare indietro nella lettura. Quindi non ricorrere troppo a perifrasi, a giri di parole, a gerundi, a participi passati. Non abusare di termini tecnici, lo abbiamo detto. Evitare le doppie negazioni, tipo non si può non ammettere che quel film era noioso. Deve diventare quel film era noioso. Poi evitare le ripetizioni, non solo di parole uguali o simili, ma anche di concetti detti in modo leggermente diverso, a breve distanza l'uno dall'altro. Per essere fluidi bisogna riuscire a riprodurre con la sintassi l'andamento del nostro pensiero, in modo che il lettore possa seguirlo con facilità. E quindi dobbiamo alleggerire, asciugare il nostro testo, quanto più possibile. Dobbiamo riuscire a far perdere peso alla nostra prosa. Usiamo il contagocce, per esempio, con gli avverbi che finiscono in mente, che oltretutto spesso provocano delle rime involontarie, e soprattutto quelli senza un vero significato, tipo effettivamente, ovviamente, chiaramente, assolutamente, che se ci sono o non ci sono è la stessa cosa, o quasi. Eliminare i pronomi personali, gli aggettivi possessivi che non servono, per esempio, lui allungò il suo passo per raggiungerci, dovrebbe diventare allungò il passo per raggiungerci. Evitare la prosa burocratica, tenuta in considerazione la riorganizzazione in oggetto, ma è brutto anche ammesso e non concesso che, oppure il riferimento alla conversazione avvenuta il. Alla prossima! Farmacia Letteraria, un podcast della Scuola di Scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale. 351-877-9461 Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.